Bianca Balti e il marito in crisi Bianca Balti e il marito in crisi, lindizio su Instagram parla chiaro Bianca Balti e il marito si sono lasciati? Cancellate su Instagram tutte le foto insieme. Tira aria di crisi nella vita di Bianca Balti. A quanto pare il matrimonio con Mattei Ginkrai non procede a gonfie vele. La prova. La modella ha cancellato tutte le foto insieme dal suo profilo Instagram, comprese quelle delle romantiche nozze celebrate lo scorso agosto negli Stati Uniti. . Non solo, nel fare gli auguri ai follower per il nuovo anno, la testimonial Dolce e Gabbana, offse di tanti altri popolari brand di moda ha postato uno scatto di famiglia solo con le figlie Matilde e Mia. . Dov'è finito il marito? Cosa è successa a questa coppia che solo qualche mese fa sembrava unita e affiatata? Per il momento Bianca ha preferito non rispondere alle domande dei fan che, con una certa insistenza, stanno chiedendo spiegazioni sulla vicenda. . E' davvero finita tra Bianca e Mattev?. Chi è il marito di Bianca Balti? Mattev McRae. Il marito di Bianca Balti è un creativo americano. La relazione tra i due è stata nascosta per un lungo periodo, fino alla nascita della piccola Mia che oggi ha tre anni. La nostra è una strana storia, vero? È un po' complicata. . Lui fa il creativo e ha un lavoro simile al mio, è occupatissimo per mesi, poi magari ha una pausa di due settimane ha raccontato l'indossatrice tempo fa in un'intervista concessa al settimanale Grazia. . Insieme dal 2014, Bianca ha lasciato l'Europa, e più precisamente la città spagnola di Marbella, per andare a vivere negli Stati Uniti, terra del marito. . La prima figlia Matilde è invece frutto del vecchio amore con il fotografo di moda Christian Lucidi. . .